Ok, se non sbaglio adesso c'è un ciclo abbastanza difficile, Borgosesi, Alpuneo, Varese, se non ricordo male, però se l'ordine è questo, pensi che sia il momento migliore per affrontare questo ciclo? Cioè alla fine la squadra ha tolto la battuta dal resto di karate, di fatto sembra in bella salute, no? Cosa ti aspetti da questo ciclo? Magari come punti o come prestazioni? Ti rispondo bene perché hai fatto una bella domanda, da giornalista bravo, per quello ti rispondo perché altrimenti ti avrei risposto, abbiamo ancora un ciclo di 24 partite, però da giornalista attento e conoscitore sicuramente di calcio, di questa categoria, abbiamo sicuramente 3 partite sulla carta molto difficile senza stare a guardare la quarta, Il gruppo a me sembra compatto, sembra solido, per quello siamo sereni e consapevoli di quello che abbiamo ad affrontare, li affrontiamo da capolista con l'atteggiamento e la voglia giusta di fare bene. Poi ho la fortuna di avere un buon gruppo, un gruppo che sia andato a me, ho la fortuna, ne approfitto, visto che è qua vicino a me, di avere il più grande preparatore della categoria, e quello ci pensa da lui a farli correre più che gli altri, per quello siamo consapevoli che sono 3 partite due, ma la affrontiamo con la giusta serenità. Grazie. Grazie.